La stabilizzazione delle immagini è progredita tantissimo negli ultimi anni, tant'è che adesso siamo in grado di catturare delle fotografie meravigliose con dei tempi di posa lunghissimi e, un momento, ferma tutto, perché non è proprio così. Seguite questo video fino alla fine perché andrò a svelarvi come mai la stabilizzazione nell'ottica o sul sensore non è la panacea per tutti i mali e invece dovremo tornare alle fondamenta della fotografia per renderci conto quando la stabilizzazione ci può aiutare e quando invece è quasi totalmente inutile. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per le aziende ormai da tanti anni. Ho usato e uso anch'io i sistemi di stabilizzazione ovviamente anche se per esempio in questo momento sulla mia macchina sono spenti perché non servono in quanto la mia macchina è ferma su tre piede. Ovviamente nel corso di questo video non vado a snocciolarvi banalità come questa ma andiamo invece a cercare di scoprire perché lo stabilizzatore di immagini non sempre ci permette di portare a casa la fotografia che vogliamo. Prima di cominciare con il video io vi ricordo per chi non l'avesse ancora fatto di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto a voi non costa niente, al canale date una mano immensa. Molto bene ma parliamo di stabilizzazione, stabilizzazione sull'obiettivo, stabilizzazione sul sensore ormai l'hanno messa un po' dappertutto. Sembra quasi, e lo dico in base anche ai commenti che mi arrivano perché io leggo tutti i commenti anche se poi non sempre rispondo, non sempre rispondo in tempo ma comunque li leggo tutti, sembra che molti, moltissimi fotografi, amatori, professionisti questo non lo so e neanche importa, sembra che siano tutti veramente convinti di non poter fare a meno del sensore stabilizzato. Si continua a parlare di sensore stabilizzato, di ottica stabilizzata Oddio, come faccio se non ho il sensore stabilizzato? Oh mamma mia, come faccio se non ho l'ottica stabilizzata? Ora io non faccio questo video per incensare i grandi del passato, me ne guardo bene però tenete conto innanzitutto che lo stabilizzatore è un'invenzione abbastanza recente quindi si è sempre fatta fotografia anche senza. Questo che cosa significa? Sputiamo sulle migliorie tecnologiche? Assolutamente no Vi ricordo però che una volta non c'era e che le foto si sono sempre fatte lo stesso Nello specifico io stesso utilizzo molte macchine che non hanno il sensore stabilizzato per la verità credo che soltanto un paio delle mie macchine delle più recenti ce l'abbiano e oltretutto io lo tengo sempre spento Molte delle mie ottiche fotografiche non sono stabilizzate eppure io le uso tranquillamente lo stesso Addirittura vi dirò che il 35 mm che sto usando adesso lo stabilizzatore non lo uso mai e l'85 mm 1.4 lo stabilizzatore lo tengo sempre spento perché tanto non mi serve Perché non mi serve? Cerchiamo di capire un attimino che cosa fa lo stabilizzatore e quando è che può effettivamente venire in nostro soccorso Ora vi faccio vedere questa immagine che è una foto tratta da uno dei miei viaggi studio fotografici Come potete vedere si tratta di una fotografia scattata all'interno di una struttura abbastanza importante all'interno della quale ovviamente non è permesso installare illuminazione supplementare e non è permesso neanche collocare tre piedi in giro per cui questa foto è stata scattata a mano libera Ora in un contesto come questo con un soggetto statico che non si muove la stabilizzazione d'immagine fa tutta la differenza del mondo Io ho scattato con la stabilizzazione dell'ottica quindi senza stabilizzazione sul sensore perché non mi serve, non mi interessa, non mi servono otto stop di stabilizzazione così era più che sufficiente In questo modo sono stato in grado di scattare a un decimo, un quindicesimo di secondo e per me era più che sufficiente per portarmi a casa come vedete un'immagine perfettamente pulita, leggibile, con un rumore assolutamente accettabile e questo è quello di cui avevo bisogno Ora però vi faccio vedere un'altra fotografia come potete vedere questa è stata scattata invece di giorno in esterna Questa seconda fotografia vi mostra molto bene che cosa succede se i nostri tempi di scatto sono troppo lunghi per cristallizzare il nostro soggetto Come potete vedere ci sono delle cose all'interno di questo fotogramma che sono perfettamente ferme a fuoco ma ce ne sono delle altre invece che si muovono e quindi vengono sfocate Ora, lo stabilizzatore d'immagine che sia nell'ottica o che sia sul sensore o che sia dove cavolo volete voi perché può anche essere una stabilizzazione esterna, può anche essere una stedicam, un gimbal, può essere qualunque cosa Lo stabilizzatore avrà unicamente l'effetto di stabilizzare il nostro movimento, il movimento del nostro corpo lo shake dovuto al fatto che siamo esseri viventi e ci muoviamo Lo stabilizzatore serve a fermare quel movimento ma non ha nessun effetto quasi nessun effetto salvo casi particolari sul movimento del nostro soggetto Io posso avere tutta la stabilizzazione che voglio ma se il mio soggetto si muove lo stabilizzatore non avrà percezione del movimento del mio soggetto avrà percezione solamente del movimento della mia camera Questo che cosa significa tradotto in parole povere? Semplicemente che se sto scattando qualcosa che non si muove lo stabilizzatore mi aiuterà e anche parecchio ma se sto scattando qualcosa che viceversa si muove lo stabilizzatore potrà aiutarmi in maniera molto limitata e comunque non è il modo corretto di ragionare perché quando io mi affido allo stabilizzatore io l'ho fatto per fare la fotografia di interni però io ho pensato gli interni non si muovono quindi io posso allungare i tempi di posa c'è un ragionamento ben preciso dietro fare il ragionamento un po' meno preciso di dire io posso allungare i tempi di posa sempre perché tanto c'è lo stabilizzatore ci porterà ad avere tantissime fotografie mosse micromosse o anche completamente inutilizzabili quindi con questo video io che cos'è che vi voglio portare? Non fidatevi così tanto dello stabilizzatore perché ogni tanto aiuta però io non credo che voi facciate tutti fotografia di interni tutti fotografia d'architettura tutti paesaggio se è per quello io credo che la maggior parte delle fotografie i dati mi supportano la maggior parte delle fotografie che noi facciamo vengono scattate ad altre persone e le altre persone hanno una caratteristica mannaggia loro che di solito si muovono questo per dire cosa? nel momento in cui vi affidate alla stabilizzazione state correndo un rischio e pensare che siccome avete la stabilizzazione allora potete usare qualunque tempo di posa è un rischio gigante il tempo di posa deve essere commisurato alla velocità a cui si muove il soggetto che stiamo catturando il nostro soggetto è fermo allora possiamo fare anche sei minuti di posa ma se il nostro soggetto si muove dobbiamo comunque scattare faccio l'esempio di una persona una persona che si muove tra un centoventicinquesimo e un duecentesimo quindi aumentare il tempo di scatto quando stiamo facendo un ritratto a una persona pensando che tanto abbiamo la stabilizzazione è un errore madornale e ci porterà ad avere un bellissimo sfondo tutto perfettamente nitido e la persona invece mossa o micromossa perché comunque si stava muovendo e noi abbiamo scattato con un tempo di posa troppo lungo questa è la tipica cosa che potrebbe rientrare in uno dei miei famosi video sugli errori dei principianti ma era un argomento un po' lungo volevo spiegarvelo bene e quindi mi sono preso il tempo e ho dedicato un intero video a questo argomento anche perché molti continuano a chiedermelo molti mi chiedono come fai senza stabilizzazione sul sensore molti mi chiedono ah ma perché dovrei prendere quella macchina non ha neanche la stabilizzazione sul sensore secondo me ragazzi sono tutte cose di cui si può tranquillamente fare a meno possono aiutare in certi casi ma non deve diventare la regola non bisogna ragionare pensando tanto c'è la stabilizzazione questo secondo me è proprio il modo di lavorare sbagliato che vi porta poi ad avere delle situazioni dove avete dei problemi che non siete nemmeno in grado di prevedere perché se vi dimenticate qual è il tempo di posa corretto per la velocità del soggetto che state fotografando chi può dire quando avrete un soggetto mosso non lo sappiamo nemmeno più perché ci siamo dimenticati un pezzo a questo punto io vi chiedo come sempre fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate vi chiedo anche di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto e di lasciare un like a questo contenuto se avete imparato qualcosa di interessante vi lascio con un video in sovraimpressione se siete interessati a scoprire altri errori da principiante che ho fatto io stesso e che sto cercando di non fare più io vi lascio un simpatico video in sovraimpressione che comparirà non appena avrò lanciato la sigla e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video iscriviti al canale